Beh, devo dire che mi state un po' antipatici perché so che in tanti state continuando a postare queste ipotetiche fotografie della mia automobile. Ne sto vedendo una in questo momento e devo dire mi state tutti un po' pesantemente sullo stomaco. Vediamo se qualcuno è in grado di difendervi attraverso, per esempio, il telefono. Buongiorno! Chi abbiamo in linea? Oh Jonathan, buongiorno! Come stai? Come stai? Tutto bene? Oggi si parla d'amore, carissimo Jonathan. Non so se hai sentito la puntata. Però siamo tutti dalla tua parte, sai, anche gli ascoltatori sono tutti dalla tua parte, sono tutti dalla tua parte. No, no, non vanno bene, non vanno bene anche perché poi non vanno bene. Nella cantina c'era scritto ti spacchi la testa una cellula con sefala per me, ti amo! Aspetta, scusa, tu sostieni che ti spacchi la testa in un bigliettino dei bari. Non è un bigliettino dei bari, in bari sui cartini, rizzila, rizzila, in bari, quelle cicanti slim, in bari. No, 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 bigliettino d'amore, bigliettino d'amore, bigliettino d'amore, no! E cosa c'è scritto? Non mandare in fumo il nostro amore. Vabbè, va, non ci siamo ora, vabbè. La ultima cellula del tuo cervello con sefala per me. No, vabbè, poi... Sì, bellissime. No, 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 no. Non vabbè. Ora stai non ci vieni, male, bigliettino, a divindare un gioventino. Ma è veramente uno sciocco perché devi sapere tra le altre cose, lo saprai sicuramente, che è in atto una promozione, quindi... Anicamartice mi ha ribattuto, amore! Sei un po' ribattuto, sei un po' ribattuto. L'ho cantata ieri tutta la serata, guarda se... L'ho cantata ieri tutta la serata, guarda se... Insomma, dovremmo andarci scoppiati. No, scoppiati. Pare, tanto scoppiamo già, non ti preoccupare. No, no, ecco, ecco. Pare, scusami, ti faccio salutare adesso dall'aria. No, scoppiati intendevo non a coppia, capito? Pare, attuare al tipo uno qualche giù, pare. No, una tipa, una tipa. Pare, una tipa, sì. A partita Cativini, pare, da rivolti fra i dinni, fra i dinni, anni, a un giocastori. No, no, guarda che io l'ho smesso di fumare già da tempo. Pare, ci l'hai presente tipo che andai nel semaforo a velocità a testa? No, no, grazie a Dio non ce l'ho presente. Ci stai presente, pare, che arriva in distanza, c'è un samurai, e ti cazzo a un corpo di scimitare andò in cilio. Ma no, grazie a Dio non mi è mai capitato un corpo di scimitare. La stessa cosa, pare. Sì, vabbè, ma scusai, pregate. Pare, ti ha cascato mai una rasta di 50 kg da quanto piano da testa? No, grazie a Dio. La stessa cosa, pare. Sì, ma a me una rasta di 40-50 kg sulla testa non mi è mai caduta, capito? Pare, ti faccio cagliare tutto il tempo, 90 minuti, più recupero, e magari il tempo pare tra prima e il secondo tempo, pausa. E il lancio della monetina? Rosso azzurri, sei un cioppupesti! Sei un rosso azzurri, sei un cioppupesti! All'incapastice! Si è ribattuto! Pare, ma che sei combinato qui mia? Pare, sei il mio fratello! Oh, pare, andiamo a frequentare i seriamente, pare! No, 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 no! Pare, sei meglio di entrare in un gruppo, pare! Non va bene assolutamente un'eventuale nostra frequentazione, figura! Pare, senti, miss Rullo Magic! Chi è Rullo Magic? Rullo Magic, pare, è un amico nostro, pare, carulla, veloci veloci, costruita, pare! Scusami, è un amico vostro! Pare, è un compagno, pare, è un compagno da comitiva! No, ma di anche mio, non è nostro! Ma nostro, non è amico mio, capito? Vabbè, pare, ma tu sei amico di l'amici, pare! Ma quando mai, ma quando mai! Ma che è? Io Rullo Magic conosco soltanto il mio in bianchino, guarda! Rullo Magic mi dici che ci potremmo fare i picchiari opposti, ti allecca mastici a qualcuno! Vai, se tu sei dispendibile! No! Ma dico, ma... Ma quanto mai! Ma quando mai! Ma stai scherzando? Ma cominci a leccare i cattini, pare! E direi che l'amici diventa come a lecca mastici! Guarda che non ci tengo! Guarda, come è mia! Ma quando mai! Dimi, pare, che poi ti torna utile! Vabbè, vabbè! Vai, ti puoi piccare la macchina a Caligma! No, no, no! Lo sai anche tu! Vabbè! Vabbè! Ho capito! Grazie, grazie! Ma non lo sai, pare! Rullo Magic che sta fanno una caccia a tesoro! Passato! Trova la macchina di Fabio! Vabbè! 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 Bellissimo! Vabbè! 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 Cacciava prima! Ci avevo premio! Vabbè! Magari un altro premio però! Possiamo fare lo so! Tipo una cena, una pizza in pizzeria per esempio! Vabbè! Ma non ci balli! Vabbè! 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 secondo me no ma che no secondo me anche tu mare secondo me che trai nel vizio nella petizione ma no aiutate un da ucci vabbè ma insomma hai già riconsumato di stamanera mare che non toghi nendi appena ti fai il tiro ti metti vabbè dai se vu un rossazzurri se vu un ciò pubessi se vu un rossazzurri se vu un ciò pubessi all'iccamastice si ha ribattuto eeeh oh mi piace alla gattola ma scuola la gattola mince poco alla gattola eeeh eeeh